il sesto capitolo del terzo libro del demonarchia di dante alighieri insiste ulteriormente sulla tesi che dante mira a confutare di coloro i quali sostengono che l'imperatore sia subordinato al papa e dalla di lui autorità dipenda nel capitolo quinto dante ha smascherato questo argomento dicendo che il fatto che un figlio nasca dopo un altro non implica affatto che il secondo genito abbia meno autorità rispetto al primo vi sono molti casi in cui chi ha un'età più bassa ha più autorità di chi ce l'ha più alta ora nel sesto capitolo dante si richiama al libro dei re ove si parla dell'investitura di re saul ebbene costoro che pretendono di dimostrare la superiorità del pontefice sull'imperatore e quindi la necessaria dipendenza e subalternità del dell'imperatore rispetto al pontefice affermano che come il vicario di dio cioè samuele ha avuto l'autorità di dare togliere il potere temporale così il papa che è vicario di cristo può fare il medesimo in sostanza samuele vicario di dio ha avuto l'autorità di dare togliere il potere temporale e allo stesso modo il papa che è vicario di cristo può dare e togliere il potere temporale ebbene dante procede a confutare questa tesi muovendo dal presupposto per cui samuele non è stato un vicario di cristo ma un semplice delegato quindi è un sillogismo infondato quello su cui si affidano è del tutto sbagliato e inaccettabile il sillogismo stesso di coloro i quali a questa esperienza si richiamano nel tentativo di confutare la tesi che l'imperatore sia indipendente dal papa dice infatti dante testualmente nel in questo sesto capitolo dal testo del primo libro dei re prendono poi come argomento la consacrazione la deposizione di saul e dicono che il re saul fu posto sul trono e poi deposto da samuele che faceva le veci di dio per suo comando come detto nella scrittura e ne ricavano che come samuele vicario di dio ebbe autorità di attribuire di togliere il potere temporale e di trasferirlo da uno a un altro allo stesso modo anche oggi il vicario di dio capo della chiesa universale ha l'autorità di assegnare togliere e trasferire lo scettro del regime temporale di cui seguirebbe senza dubbio che l'autorità dell'impero è condizionata nel modo che essi pretendono di fronte a questo argomento dobbiamo pronunciarci facendo giustizia dell'affermazione che samuele era vicario di dio perché egli agì non come vicario ma come delegato speciale e questa precisa missione in altre parole come messo l'atore di un apposito mandato del signore come si vede da questo che esegui semplicemente quanto dio gli aveva detto e questo solo riferì di qui si vede si deve vedere che una cosa essere il vicario a un'altra essere il messo l'esecutore come una cosa essere dottore della legge un'altra esserne interprete dice poi dante quindi se dio però così per il tramite di samuele suo inviato questo non vuol dire che il vicario di dio abbia altrettanto potere infatti dio ha compiuto compie compirà attraverso gli angeli molti atti che il vicario di dio successore di pietro non potrebbe compiere ecco quindi è un'analogia fuorviante quella che usano costoro e in quanto tale deve essere respinta non basta affatto a dimostrare che il vicario di dio in terra può fare ciò che faceva anche samuele diverse sono le loro competenze e inaccostabili le loro figure grazie grazie